L'UZ è un progetto di vita che cerca modalità di espressione individuale e di rapportarsi tra anime affini e con la realtà che ci circonda. È un gruppo di anime che in comune ha il desiderio di vivere e di riprendersi gli spazi di libertà negati. È fatto di gente che non accetta più la reclusione forzata, la lettura distopica della realtà, il paradosso inquinato e criminale delle scelte politiche e cerca soluzioni comunitarie. Quindi il gruppo mira a costruire una rete nel territorio di appartenenza che faciliti gli incontri nelle case, nei giardini, nei parchi. A che scopo? Lo scopo è la condivisione di ciò che ognuno può offrire a partire dal semplice esserci. Sono invitate ad aderire a questo gruppo tutti quelli che desiderano vivere l'amicizia attraverso incontri dal vivo nei luoghi in cui la prossimità si possa esprimere guardandosi negli occhi e scambiando un abbraccio. Le vedete queste sbarre? Questo è quello che ci hanno costretto a vivere da un anno a questa parte. Ma noi questa vita non la vogliamo più. Noi queste sbarre le dobbiamo tagliare, ci dobbiamo riprendere i nostri spazi perché abbiamo bisogno di vederci negli occhi, di abbracciarci e di guardare quegli splendidi sorrisi che ci hanno sempre animato e che animano le nostre vite.